Non solo evasione fiscale, l'attività della Guardia di Finanza nel 2016 ha messo in primo piano anche la tutela della salute pubblica. Inchieste sull'inquinamento, come quelle che riguardano la zona di Nocione a Cassino o Ceprano, dove si suppone siano interrati dei rifiuti, stanno per portare risultati e dimostrano come alta sia l'attenzione in questo settore. L'attività svolta dai reparti operativi dipendenti dal comando provinciale di Frosinone, la scorsa annualità non si sono limitati a quello che è il nostro core business, quindi la lotta all'evasione fiscale. Ovviamente la nostra presenza è una presenza che tiene conto delle esigenze del territorio e in questo senso ci siamo sentiti in dovere di venire incontro alle tante segnalazioni pure della cittadinanza di fenomeni criminali che interessano lo smaltimento dei rifiuti. Quello che vorrei sottolineare è che l'approccio che diamo noi nel momento in cui esaminiamo situazioni del genere e oltre la necessità che ci sia un intervento immediato da parte delle autorità competenti per eseguire la bonifica di queste aree, il nostro intervento però mira soprattutto a verificare le responsabilità ed eventualmente i profitti che sono stati realizzati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata che hanno sfruttato il territorio per questo fine. C'è un altro aspetto che tocca la sensibilità della gente, gli sprechi nella spesa pubblica con un'indagine per esempio aperta nel settore sanitario su cui però non è traperato nulla oppure l'utilizzo di agevolazioni di cui in realtà non si ha necessità. È il caso delle esenzioni dei ticket sanitari, il 90% delle persone controllate le ha sfruttate senza averne diritto. E poi ci sono i numeri sulle attività convenzionali, scoperti 104 evasori fiscali, avviate procedure di sequestro per circa 104 milioni di euro, individuati 89 lavoratori in nero, sequestrati 350.000 prodotti contraffatti e sono solo alcuni dati. Il 2016 ha prodotto quindi ottimi risultati, la finanza sta lavorando per migliorarli ancora.